Oggi la colpa la si dà all'Europa e la si dà all'Europa per dire le regole di bilancio che ci costringono a essere un po' meno generosi con la spesa pubblica di quanto noi non vorremmo essere. Un po' meno, ben inteso. Il nostro è un paese che ha comunque una spesa pubblica che pesa metà del prodotto interno lordo, di fatto. Ora, cercare qualcuno a cui dare la colpa, l'Europa, l'Euro, i tedeschi, ma anche questo, quell'associazione, anche questo, quel corpo dello Stato è normale, è molto umano. Ma quando viviamo in un paese con le nostre difficoltà, un paese che ha il nostro debito pubblico, un paese nel quale da vent'anni la produttività non cresce, forse sarebbe più utile guardarsi allo specchio e capire qual è il percorso di riforma che dobbiamo intraprendere per poter cambiare davvero e cambiare in meglio.